Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare tre piante della compallaria spettrale di livello 10, esatto, tre posti con tre piante quindi ora basta con le chiacchiere e mettiamoci subito al lavoro dirigetevi qui alla biblioteca e percorrete questo lungo viaggio fino ad arrivare al fiume e scendete prendendo l'ascensore e andando sotto terra e adesso vi faccio vedere dove esattamente ecco, quello è il nostro passaggio, quindi utilizziamo l'ascensore scendiamo giù, mi raccomando fate molto attenzione, adesso vi faccio vedere dove andare allora quando scendete giù, percorrete questo lungo viaggio scendete, andate alla vostra sinistra, attenzione alle formiche state attenti a quei tizi là, ai minatori poi qui ci sarà quel bestione che vi lancia delle pietre enormi lì c'è il mercante, poi dirigetevi sempre più avanti in questo vicolo stretto stretto e qui c'è il drago da uccidere ok, molto semplice ripassate di nuovo la parte dove vi spiego dove andare ed eccoci arrivati qui dobbiamo uccidere un drago un drago, vabbè, se stai al primo viaggio e sei di livello basso avrai difficoltà ecco qua, un altro ucciso il drago sbloccherà questa lunga porta, cioè questa grande porta e all'interno di questo baule troverai la tua prima convalaria spettrale di livello 10 un altro posto dove cercare a Noxtella allora ragazzi, adesso vi spiego una cosa ho dimenticato il percorso da fare per arrivare qui ma non vi preoccupate, su youtube ne troverete parecchi come arrivare a Noxtella io intanto vi faccio vedere dove trovare questa altra pianta della convalaria spettrale quindi salite qua sulle scale percorrete tutto questo lungo viaggio da questa parte, ho precisato il video per non farvi annoiare attenzione anche alla palla là, alla bowling entrate qua dentro e appena aprite questo baule alle vostre spalle apparirà un'altra palla quindi basta sconfiggerla e si apriranno le porte che troverete dietro di voi poi un altro posto dove cercare alla terra dei draghi la chiamo così perché mio gioco, mio le regole dirigetevi qui al tempio del drago questo è il passaggio dove per uccidere la mia nemesi, la Isagriderma quindi qui fate veramente un bel salto io qua ho avuto culo, guardate un po' già culo ho avuto dirigetevi da questa parte entrate qua dentro, attenzione al tizio che spuga all'improvviso che vuole alzannarvi saltate qua prendete la scala sempre più avanti in quel piccolo tempio all'interno di quella tomba troverete un'altra pianta della convalaria spettrale scusatemi tanto sembra noxtella ma quello è il punto esatto dove trovare un'altra pianta e niente ragazzi grazie a tutti per questa visione se il video ti è stato utilissimo dove trovare tutte queste piante lascia like e niente attiva anche la campanellina per rimanere aggiornato su altri tutorial su Elden Ring quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao